Il Ministro della Brisa che è riduce dal G7 dell'agricoltura, questa mattina è partito da Catania, ha lasciato il G7 e ha voluto chiudere terra madre e oggi è qua a impreziosire il nostro capodanno, che innanzitutto noi siamo persone che hanno profondo rispetto per le istituzioni, quindi per noi avere il nostro paese, avere l'Italia, avere il Ministro dell'agricoltura è un motivo di straordinario orgoglio, perché il tartufo è una cosa molto seria, Antonio De Giacomo il nostro Presidente ce lo ricorda sempre, ma ce lo ricorda la nostra cultura, ce lo ricorda il fatto che in regione abbiamo una delega al tartufo, c'è qua il mio assessore al tartufo Marco Gallo, ma c'è anche l'assessore all'agricoltura e c'è anche l'assessore alla sanità, perché poi alla fine se non stiamo bene non possiamo mangiare i tartufi, bisogna sempre cercare di guardare a tutto tondo le necessità che abbiamo. Sono orgoglioso del fatto che in Piemonte noi abbiamo una legge sul tartufo che pensa anche al benessere animale, noi senza cani non troveremo i tartufi, così come non li troveremo non li avremo senza i boschi, quindi il bosco, il cane, il trifurau, la cultura del cercatore, sono tutti aspetti che fanno parte dell'unicità del tartufo bianco d'alba in Piemonte e se i tartufi ci sono da perduti in Italia, vero, ci sono in tante regioni, vero che sono anche buoni, ma ovunque andrà il ministro ti diranno i nostri sono più buoni di quelli di Alba, tutti che si paragonano a noi, chiaramente non chiediamo niente a nessuno, ma ovunque diranno i nostri sono più buoni di quelli di Alba, perché Alba è nel mondo la capitale del tartufo bianco. Grazie. E quindi questo tentativo che facciamo costantemente di aprire nuovi mercati permetterà di far crescere la ricchezza e insieme ai prodotti migliori che qui chiudo, noi ci portiamo dietro tutti i prodotti italiani, alcuni sono degli apripista, il nostro vino è un apripista, il nostro tartufo è un apripista, tante tipologie di produzione di eccellenza sono il modo per presentarci al mondo, dopodiché ci portiamo dietro per esempio il turismo. Quanti, quanti decidono di venire in Piemonte perché hanno assaggiato un barolo, perché hanno avuto l'occasione di assaggiare il tartufo di Alba chiedendosi ma da dove viene questa meraviglia? Quanti avranno la possibilità in un mondo in cui ci si sposta sempre più velocemente di venire in questi luoghi, visitarli, valorizzarli. Ed è per questo, insomma, che sa bene anche il sindaco di Cazale, quello nuovo che arriverà quando avrai, non so se ti sei già dimesso, ma patrimonio dell'UNESCO potranno vedere le montagne e chi sta sul territorio riesce a proteggerlo anche con il proprio lavoro, continuare a fare le attività che io reputo indispensabili per affrontare gli effetti collaterali del cambio climatico, ristabilendo una regola banale, l'agricoltore è il primo ambientalista del pianeta, dove c'è l'agricoltura il territorio è protetto meglio, non peggio come qualcuno ha sostenuto. Quindi grazie a tutti quelli che hanno tenuto in piedi la bandiera, che hanno tenuto attive queste attività, che hanno lavorato per promuovere e vendere in senso positivo le nostre bellezze, regalandoci valore e ovviamente noi non potremo far altro finché saremo al governo di essere al fianco dei produttori e quando non lo saremo più saremo sempre al fianco in ogni ruolo che potremo interpretare di quelli che hanno tenuto in piedi l'Italia, che l'hanno fatta nel caso dei piemontesi e ribadiremo che non siamo disponibili a rinunciare a questa grande e bella patria, parola della quale io continuo a non vergognarmi. Grazie. Dicendo che noi qui in questi anni il brand è Tartufo Bianco d'Alba, che non c'è solo qui ad Alba, ma in questo territorio le donne e gli uomini hanno lavorato per far sì che oggi circa il 70-75% di visitatori che arrivano durante la stagione notturnale arrivano da ogni parte del mondo e questo è veramente la promozione e il gioco di squadra ed è un piacere e un onore per noi essere con la 94esima edizione della fiera sull'America Vespucci a lamellare il Tartufo Bianco d'Alba. Alla luce degli anni passati, quest'anno è stato un anno un po' diverso, ci sono delle temperature molto diverse rispetto a quelle dell'anno scorso, però questi dieci giorni permettono, come è stato detto prima, di lasciare a riposo le piante che quindi si preparano per regalarci dei tartufi ancora più buoni, ancora più pregiati nel corso delle prossime settimane, attendendo quei mesi di... Quindi tutti insieme facciamo dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, e vediamo!